Preghiamo chi è in piedi di sedersi, chi è fuori di entrare, chi è laterale se vuole venire al centro oppure se vuole rimanere laterale pronto ad andare via al momento giusto può rimanere laterale. Tanto si sente lo stesso, penso. Ringraziamo tutti di essere venuti qua a questi stati generali 2017 che rispetto ai precedenti sono molto connotati, lo vedete già dal nome, la consulenza come valore aggiunto per Industria 4.0. Quindi quest'anno il leitmotiv che è stato peraltro il leitmotiv dei nostri ultimi sei mesi sarà questa rivoluzione industriale che raccoglie un po' tutti i nostri clienti, tutti i nostri lavori, tutti i nostri progetti e al tavolo abbiamo per la prima parte della mattinata Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale il nostro partner e alleato su tutta la campagna di Industria 4.0 Giovanni Benedetto, direttore generale di Asso Consult, ex vicepresidente che ha dedicato anche lui gli ultimi mesi esclusivamente a questa tematica e il professor Corrado Cerruti che ci parlerà subito dopo l'introduzione dell'osservatorio di quest'anno dell'Asso Consult, anche questo che ha una certa connotazione e come vedrete un certo imprinting sul tema di digitalizzazione e di Industria 4.0. Finita questa prima parte che durerà un'oretta, un'oretta e mezzo passiamo poi a tre casi aziendali, i casi interessanti su Industria 4.0 che verranno presentati un po' da noi, un po' dai nostri clienti e che servono a dare un po' di feeling concreto di quello che viene fatto sono tre casi esemplari e poi facciamo una tavola rotonda in cui verranno rappresentanti del Mise, in cui rimarrà Elio Catani e lo ringraziamo per stare qui con noi tutta la mattina ci sarà il sottoscritto e ci saranno anche altri colleghi Io faccio una breve introduzione prima di passare la parola a Elio sul fatto che noi l'anno scorso qua, esattamente in questo posto a questa data e a questa ora, abbiamo avuto la presentazione di Francesco Boccia che era appena diventato presidente di Confindustria che ha aperto i nostri lavori e ci ha dato un mandato ha detto piano Industria 4.0 è un piano per me primario e nella mia agenda i consulenti sono gli abilitatori di questo piano quindi cortesemente dateci una mano noi abbiamo raccolto questa sfida a ottobre ci siamo visti a Firenze ciascuno col suo pacchettino di esperienze abbiamo messo insieme tutto quanto da ottobre a gennaio abbiamo cominciato a collaborare a preparare strumenti e punti di vista da presentare poi al mercato nei road show di Industria 4.0 insieme a Confindustria Digitale e alla Confindustria abbiamo poi fatto effettivamente questi road show e abbiamo fatto anche degli strumenti che sono importanti come quello del self assessment, del check up per le piccole e medie anche per le grandi imprese e qui siamo adesso dopo 12 mesi di intenso lavoro io vorrei far vedere una sola slide che è una slide non certamente di tipo TEDx è una slide di tipo un po' antico però per rappresentare cose nuove chiedo a Simone di mettere la su non è importante che voi leggiate quello che c'è scritto dentro questo è un piccolissimo estratto un piccolissimo estratto di quelli che sono use cases centinaia, anzi migliaia di casi d'uso delle nuove tecnologie digitali nella catena del valore di un'impresa che sia un'impresa industriale o che sia un'impresa di servizi se un'impresa di servizi basta che togliete la colonna manifattura e tutto il resto vale questo è la slide che io presento sempre quando andiamo a fare il road show che serve a dire guardate che Industria 4.0 non è un modello non è una tecnologia ma è un insieme pressoché infinito di cose anche perché questi elenchi continuano a cambiare ogni giorno nascono nuove start up in Italia, all'estero, nel mondo ci sono osservatori che servono proprio a monitorare queste cose perché grazie alla tecnologia che sta evolvendo in maniera esponenziale ci sono ogni giorno nuove idee che possono aiutare il business a evolvere quindi non è una cosa statica però è una cosa chiaramente articolata quindi non è una cosa che un'azienda si può introdurre da solo dopo che noi abbiamo fatto la riunione come questa con tutti gli imprenditori gli spieghiamo questa slide e poi loro partono no quello che noi andiamo a dire ai road show però è un piccolo pezzo di quello che io vorrei dirvi oggi è il pezzo che possiamo raccontare agli imprenditori cioè il fatto che per fare questa cosa loro hanno bisogno intanto di dotarsi di capacità interne di innovazione quindi di scouting per andare a capire quali sono le tecnologie che nascono e quali sono quelle che servono hanno bisogno di dotarsi di gruppi interni di team interni digitali che abbiano un mindset digitale perché senza di quelli non vanno da nessuna parte non possono dare al vecchio capofabbrica l'onere di rivoluzionare il metodo di lavoro in fabbrica o nella logistica o nel marketing e hanno bisogno anche di avere da parte nostra e quello che abbiamo tentato anche di fare delle road map che dicono da dove cominciare però sono delle road map generali e generaliste non possono essere road map di dettaglio perché i casi dei settori industriali i segmenti industriali le casistiche tecnologiche sono molto diverse ovviamente ci saranno le road map diverse in funzione di quali sono le strategie delle aziende se un'azienda ha la strategia sulla logistica partirà con un road map di un certo tipo se la strategia è sull'ultima colonna alla vostra destra che è CRM, mercato, marketing, vendita e cliente partiranno con un road map completamente diversa basato sulla customer experience sulla digital relationship col cliente eccetera oppure sulla fabbrica ecco, questo è quello che noi andiamo a dire error show la cosa che non possiamo dire ma che dobbiamo dirci tra di noi è che i consulenti potremmo dirlo ma sarebbe troppo commerciale è che i consulenti sono strategici in questo percorso i consulenti sono strategici perché intanto una trasformazione digitale non è solo tecnologica ma anzi la tecnologia è l'abilitatore c'è la trasformazione di processi, di organizzazione e c'è la trasformazione di cambiamento culturale e questo è il mestiere classico del consulente cioè l'abilitare una trasformazione cioè noi fin dal 70 quando è nata la consulenza in Italia il consulente serviva per aiutare il top management ad abilitare la trasformazione internamente è molto più difficile trasformare ci sono i muri che si creano ci sono le gelosie reciproche il consulente è un esterno viene pure pagato e quindi bisogna andare dietro prima cosa seconda cosa se voi andate a intervistare e lo vedremo oggi quando ci sono i casi aziendali che vedremo tutte le più grandi aziende che hanno fatto trasformazione tecnologica negli ultimi anni c'è sempre dietro un consulente c'è dentro sempre sicuramente un system integrator c'è qualcuno che lo ha aiutato c'è sempre dietro un tecnologo la Siemens, la BB che ha fornito l'hardware c'è dentro un system integrator che ha personalizzato il software ma c'è un consulente che ha integrato processi, sistemi e cose ero l'altro giorno con un produttore alimentare italiano molto importante che ci ha raccontato il suo best practice nello stabilimento dove per la prima volta gli operai del turno di notte l'alimentare funziona in maniera totalmente diversa dall'industria 4.0 cioè ci sono le donne che impastano che fanno gli impasti cioè come una grande cucina non è una roba tu voi pensate che la pasta esca no, no ci sono queste donne che si passano e lavorano 24 ore su 24 quindi notte, giorno, ora, pomeriggio e queste adesso grazie alle nuove tecnologie comunicano tra di loro come una specie di mega whatsapp tutte le problematiche che hanno avuto durante il loro turno quindi hanno totalmente eliminato le incontri del lunedì dove ciascuno doveva fornire i grafici i problemi perché parlano tutti i minuti tutte le ore tutte le cose una con l'altra tutte con l'iPad hanno scoperto che le donne usano l'iPad pur essendo diciamo delle cuoche tre virgolette sono molto più avanzate tecnologicamente dell'operaio che di solito lavora nella macchina con le mani grosse e quindi sono super gasati ma quando hanno raccontato questa cosa hanno raccontato del grande valore aggiunto che gli ha dato il consulente che gli ha aiutato a fare questa roba qua stessa cosa un'azienda che produce fa macchine per gelato mondialmente leader mondiale leader mondiale di macchine per gelato cioè tutte Grom è nata con le sue macchine di gelato questi hanno messo l'IoT sulle macchine del gelato e quindi sono in grado di monitorare se il McDonald's la lascia accesa di notte non la pulisce la sera prima di chiudere il negozio e quindi gli manda dei messaggi il giorno dopo dicendo guarda che se fai così la macchina si rovina questa cosa è un'idea della ricerca e sviluppo ma poi l'attuazione e la customer experience l'hanno fatta i consulenti e anche loro hanno ringraziato i consulenti per fare questa roba by the way loro formano anche le persone quindi se qualcuno di voi volesse avviare una gelateria quando finisce di fare il consulente sappia che con pochi soldi questi ti danno le macchine ti fanno la formazione ti spiegano come avviare un'attività imprenditoriale e i due ragazzi di Grom hanno cominciato esattamente così con loro che ne hanno spiegato come fare e sono diventati abbastanza ricchi quindi chi di voi pensa che la consulenza non sia troppo business interesting potrebbe fare questo tipo l'ultima cosa questa proprio non la posso dire ai role show questa si poteva anche dire questa è l'ultima che dico non si può dire per poter fare questo noi abbiamo fatto team cioè se noi avessimo lavorato da soli ciascuno sul suo cliente ciascuno con le sue idee ciascuno con il suo passato per cercare di sviluppare Industria 4.0 nel suo cantuccio non avremmo ottenuto i risultati che stiamo ottenendo e che secondo me nei prossimi mesi saranno ancora più eclatanti cioè la cosa incredibile che ha fatto questo gruppo è stata quella di riunirsi di mettere in comune le idee di mettere in comune metodi e strumenti al di là delle possibili gelosie individuali diciamo da paradosso del prigioniero e capire che tutti insieme potevamo avere un ruolo istituzionale che separatamente invece abbiamo non abbiamo non possiamo avere cioè separatamente siamo delle società industriali che cercano di fare business fare questo ci ha dato una visibilità come settore ma anche come aziende individuali al ministero ce l'ha dato in confindustria e ce la sta dando sul mercato dopodiché ciascuno farà il suo business ma questo è il risultato di tre anni di lavoro di questo gruppo non tutti ovviamente sono associati oggi questa è una seduta aperta a tutti però io parlo in questo momento alle società associate abbiamo fatto teaming abbiamo lavorato insieme credo che sia una roba un'esperienza unica a meno per me lo è stata e credo che lo sia stata anche per voi e quindi grazie a questa esperienza di cui vi ringrazio abbiamo ottenuto e credo otterremo dei risultati importanti per noi ma soprattutto per il mercato e per il paese passo la parola a Elio per la sua piccola presentazione sì infatti sarà piccola e breve visto anche quanto qualificato è questo uditorio ma io mi rallaccio un pochino oltre che ringraziarti Carlo per avermi voluto qui parte di questa vostra riunione con Carlo siamo i co-evangelisti quando mia moglie mi dice ma tu dove vai oggi perché sto sempre in giro faccio l'evangelista in effetti sto facendo l'evangelista di questo 4.0 e devo dire che insomma vorrei arrivare già alla conclusione del mio ragionamento siamo di fronte a un'opportunità straordinaria l'opportunità è quella di cambiare realmente questo paese e questa opportunità non l'avevamo così consolidata fatemi dire 12 mesi fa 18 mesi fa io ho frequentato questa stanza dove si è del consiglio generale di confindustria per anni e devo dire che è stato frustrante per anni parlare di digitale e vedere proprio l'uditorio sedersi con le spalle indietro lo capisci subito quando l'uditorio risponde sono tutti lì interessati no quando si cominciava a parlare di digitale di trasformazione digitale tutti i miei colleghi imprenditori appoggiavano le spalle alla spalliera delle poltrone qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato 12 mesi fa 18 mesi fa ed è stato il momento in cui mi metto anch'io nel team di cui Carlo parlava martellando proprio come appunto un martello pneumatico abbiamo cercato di far capire a questa parte della classe dirigente del paese che è il sistema di confindustria e poi di converso alla parte politica che non stavamo parlando di un nuovo modello di computer erano di una banda più larga ma stavamo parlando di come ridisegnare l'economia del nostro paese di come ridare competitività ai nostri territori di come rimettere in moto la macchina della crescita ecco allora tenendo conto che il nostro auditorio non era sensibile l'aver fatto questo l'aver ottenuto questo grande risultato in pochi mesi lo ritengo un passaggio assolutamente rilevante su cui però dobbiamo ancora insistere dicevamo prima al caffè con Carlo non è detto assolutamente che aver messo in moto la macchina la faccia decollare se non stiamo costantemente sul pezzo io vorrei scorrere con voi alcune diapositive che sono in parte quelle che con Carlo raccontiamo in giro nei nostri road show territoriali siamo arrivati già alla 25esima edizione in tre mesi ma la vorrei raccontare in maniera fatemi dire un po' più conversativa tenendo conto che siete voi che normalmente queste presentazioni le fate soltanto per poter darvi un po' il mio convincimento la mia opinione forte su tutta una serie di elementi che stanno intorno a questo tema la prima considerazione che siamo riusciti a far passare è che il vero problema di questo paese è questo lo diciamo in molti il problema della crescita ma dietro il problema della crescita e cominciano a essere in molti adesso ad esserne convinti è il tema della produttività le forbici che abbiamo di fronte ben le conoscete notate bene le due forbici sulla crescita sulla produttività si sono aperte nell'anno 2000 che è guarda caso l'anno in cui sono intervenute nell'economia la rete e le tecnologie legate alla rete cominciamo a essere in più adesso a capire che uno dei motivi fondamentali per cui esiste un gap di produttività nel nostro paese che è una delle cause fondamentali oltre alle altre strutturali di cui soffriamo per la mancata crescita del nostro PIL è il fatto che questo paese ha investito poco negli ultimi 15 anni in generale ma soprattutto ha investito ancor meno in tecnologie digitali se noi fossimo e investissimo in media europea noi dovremmo investire in più ogni anno 25 miliardi di euro moltiplicate questo 25 per 15 per 10 quello che volete noi abbiamo accumulato un gap di innovazione non iniettata nel nostro sistema delle imprese non iniettata nel nostro sistema della pubblica amministrazione nei sistemi formativi nella società pari a 200 250 300 miliardi di euro questo è il deficit che ci stiamo portando dietro e l'abbiamo pagato in maniera molto pesante due punti di PIL probabilmente questo è il tasso che ci siamo persi per strada occupazione ecco sono questi un po' i temi che siamo riusciti finalmente a far passare come messaggio interessante lo faccio vedere a Carlo prima che nella relazione del governatore nelle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia degli allegati ci sono esattamente le stesse diapositive con gli stessi colori quindi non so se c'è stato un copyright infringement però ci fa piacere che ormai questo sia diventato il linguaggio comune non era così fino a poco tempo fa non lo diamo per scontato interessante quella forbice che si apre nel 2000 cosa vuol dire questo è come se la classe dirigente di questo paese cioè la gente che siede al vostro posto in questa stanza così come la classe politica come se non avesse colto il valore strategico di internet e delle nuove tecnologie che man mano si sono evolute ma forse ha confuso tutto questo con un nuovo modello di computer con un nuovo modello di banda invece di capire che dietro quello si stava annidando una maniera diversa di fare impresa come voi ben raccontate ai vostri clienti è la economia che andava ridisegnata e noi questo non lo abbiamo colto perché è importante la discesa in campo della leadership in questi ragionamenti perché contrariamente a tante altre evoluzioni tecnologiche o a tante altre evoluzioni guidate dalla rivoluzione tecnologica di qualche anno fa come ben sappiamo questa è una fase evolutiva in cui la tecnologia è talmente pervasiva che rimette in discussione tutto all'interno di un'impresa e quando tu dici iniettare o inserire i social all'interno della tua azienda capire in maniera puntuale le esigenze dei tuoi clienti reintegrare la catena logistica crearti un ecosistema aprire la tua azienda far lavorare in modo diverso i tuoi dipendenti bellissimo a dirsi ben complicato è farlo perché le resistenze sono straordinariamente forti ecco quindi che soltanto con la presa di coscienza da parte dell'amministratore legato piuttosto che dell'imprenditore questo può avvenire ecco perché questa chiamata che abbiamo voluto fare alla leadership imprenditoriale e politica del paese l'abbiamo ritenuta assolutamente necessaria girando l'Italia poi ti accorgi che ci sono come al solito due Italie c'è un'Italia che si è mossa che non ha aspettato né me né Carlo né tantomeno il piano calenda aveva capito che c'era da far qualcosa ha tirato sulle maniche e questo credetemi indipendentemente dalla dimensione della società io ho trovato aziende che fanno ceramiche a Caltagirone piuttosto che infissi ad Alghero piuttosto che agricoltura in Calabria che hanno fatto cose straordinarie di nuovo rimettendosi in discussione ridisegnando il loro modello d'impresa aprendo nuovi mercati integrando nuovi fornitori reintegrando le social all'interno dei loro modelli di marketing ecco dietro questi casi di successo non c'è né la confindustria né il governo ma c'è un leader una donna un uomo che hanno capito prima degli altri quello che stava succedendo in Italia ci sono 6.000 start up 6.300 30.000 40.000 giovani che stanno scommettendo il loro futuro su queste cose e fanno delle cose straordinarie di cui però non vedono la exit l'open innovation non riesce ad avere luogo così come in altri paesi il venture capital vale 160 milioni di euro in Italia contro i 2 miliardi dell'Inghilterra ci sono decine di lab politecnologici poi qui avremo una testimonianza chilometri rossi chilometri verdi molto frammentati ecco quindi di nuovo come in tante altre occasioni abbiamo un'Italia capacissima di innovare a livello di singolarità incapace di fare sistema questo lo dico perché non per dirvi una cosa nuova che ben conoscete ma perché proprio su questo aspetto abbiamo voluto come Confindustria costruire un modello nuovo di cui tra un attimo vi darò la dimensione tutto questo ovviamente aggravato dalla struttura industriale del nostro sistema soltanto il 10% delle piccole imprese tra 10 e 50 dipendenti ha un livello di digitalizzazione fatemi dire sufficiente accettabile vi rendete conto solo il 10% e tutti gli altri numeri ce ne sono statistiche quante ne volete ci dicono che purtroppo ci meritiamo quel numero basso nelle classifiche del commercio elettronico del fatturato derivanti dall'elettronico sul complessivo del fatturato sulla crescita e tra l'altro i differenziali tra chi ha fatto quelle cose chi ha fatto la ceramica fatta in quel certo modo piuttosto che agricoltura tra i dati finanziari di quelle imprese rispetto alle altre che non hanno fatto intensità digitale sono evidenti il fatturato cresce molto di più i margini crescono molto di più l'export cresce molto di più non racconto a voi che cosa sta succedendo se qualcuno mi chiede io questo lo racconto in giro perché come al solito noi tecnologhi ci metto anche voi su questo bombardiamo il mercato di slogan di parole mezzo inglese mezzo italiano non si capisce nulla alla fine sta succedendo esattamente questo credo questo triangolo magico che lo sviluppano la sensoristica il fatto che tutti questi dati che vengono generati si possono trasmettere a costi industrialmente accettabili a grandi velocità e da ultimo la capacità di elaborare tutta sta roba a costi anche qui industrialmente accettabili l'impatto sulle imprese e questo è il messaggio che stiamo portando in giro dappertutto e che diventa poi ed è immagino il cuore del vostro ragionamento come società di consulenza sul mercato è che la parola chiave in tutto questo è integrazione anche di questo ne parlavamo al caffè prima con Carlo è chiaro si stanno ridefinendo i quadri competitivi i tuoi nuovi concorrenti ti entrano dalla finestra non sai neanche chi sono la differenza tra i mercati diventa molto più labile c'è una ridefinizione dei confini tra le varie industrie sta succedendo di tutto sul mercato ma all'interno della tua impresa queste tre cose ti stanno rivoluzionando completamente il modo in cui tu gestisci i tuoi processi ecco l'area di attacco quella matrice che tu presentavi prima questo è un ragionamento che prende quando lo racconti io vedo che prende però naturalmente e inevitabilmente porta alla domanda successiva ok ho capito se non faccio qualcosa vado via dal mercato vengo spazzato via dal mercato se non faccio qualcosa i miei concorrenti mi entreranno da dove non so io e mi portano di colpo via il 40% del fatturato in un anno perché di questo si tratta certo ho capito non ho più tempo davanti perché i tempi di ciclo del business prima erano dei 5-7 anni avevo tutto il tempo di mettere a posto la mia azienda adesso in tre mesi mi arriva uno nuovo che con un modello senza legacy in maniera molto più efficiente mi spazza via mi porta via i clienti ma come lo faccio tutto questo ecco questo è un po' il punto di fondo c'è un bisogno enorme di aiuto adesso parlo ai colleghi amici consulenti noi abbiamo una certa responsabilità in tutto questo rendiamocene conto lo dico anche ai miei amici della telecomunicazione ai tecnologhi a chi ha venduto software piuttosto che piattaforme non siamo stati bravi negli ultimi 15 anni per motivi i più disparati a far capire al mercato soprattutto a quello più difficile delle piccole e medie imprese cosa stava succedendo e abbiamo forse spinto troppo i pezzettini i pezzi dell'ego non abbiamo portato quel concetto di integrazione di revisione dei processi legandoli in modo diretto alla qualità del business a qualità delle performance alla struttura finanziaria così come avremmo dovuto facciamo anche autocritica altrimenti non saremmo al punto in cui siamo certo è vero l'Italia non è fatta soltanto di banca intesa o di credito piuttosto che Pirelli piuttosto che Enio Enel i grandi gruppi in cui hai un'interlocuzione di alto valore di alta qualificazione con cui puoi fare questi ragionamenti l'Italia è quella di prima fatte tantissime piccole e medie imprese dove spesso manca l'interlocutore e quando vai lì dall'imprenditore a proporre di fare un self assessment per mille euro ti dicono no per carità non lo voglio fare ecco dobbiamo anche tener conto di questo che abbiamo un problema di copertura del mercato e poi il vostro mondo della consulenza lo sappiamo è scalato in maniera molto granulare sul territorio concentrazioni sui pochi grandi gruppi e poi una enormità di piccole imprese spesso non sempre al massimo livello della qualificazione a coprire il mercato questo è un dato di fatto con cui dobbiamo fare i conti però la domanda oggi esiste ed è chiara aiutatemi a fare qualcosa il tema di fondo che è avvenuto negli ultimi mesi io credo ruota intorno a queste quattro cose sono successe quattro cose in questo nostro paese che si stanno ponendo in una condizione diversa da sfruttare su cui concentrarci e batterci sopra il piano banda ultralarga che sta andando avanti abbastanza bene il piano di crescere digitale che è il tema della trasformazione della pubblica amministrazione su cui non stiamo andando con la velocità che noi vorremmo abbiamo perso un anno di tempo adesso c'è Piacentini che ci sta lavorando direi molto concentrato però una pubblica amministrazione che non trascina non riesce a trasformare il paese per definizione il mondo pubblico deve essere il benchmark in qualunque cosa si faccia da noi questo non lo è stato ed è una delle motivazioni per cui abbiamo accumulato quel deficit il terzo ecco come dicevo il piano calenda il piano calenda è nato in questa stanza abbiamo deciso di affiancare il governo abbiamo avuto la fortuna di avere Carlo Calenda e il suo team oggi verrà mi pare Francesco Cuccia quindi abbiamo avuto la fortuna di avere Carlo Calenda che ne ha visto la valenza politica di scommettere sulla digitalizzazione e sull'innovazione cosa che non si era mai vista prima e poi il nostro impegno di Confindustria appunto con i road show girando per il territorio perché abbiamo capito che qui noi ci facevamo i nostri bravi ragionamenti il territorio aveva bisogno di altre cose ritornare dai clienti parlando il nostro linguaggio andare sul territorio fare in modo che tutte quelle iniziative che oggi sono tante sui territori e che non hanno inciso diventassero sistema questa è stata la grande la grande scommessa che abbiamo voluto fare tutti quanti insieme devo dire che per la prima volta questo l'ho detto in modo pubblico e lo ripeterò sempre ne ho visti di piani di governo di piani economici di piani di crescita per la prima volta ho visto un piano di crescita economica al cui centro c'è veramente il digitale allora uno dei punti fondamentali su cui credo stiamo lavorando e dobbiamo concentrarci è proprio cercare di far lavorare meglio gli ecosistemi territoriali l'Italia è fatta di territori è inutile che ci inventiamo modelli diversi questa è l'Italia sono dei territori fatti di tante realtà dagli enti locali ai poli tecnologici ai conference center agli incubatori alle banche locali per i finanziamenti qual è la scommessa che abbiamo fatto? di creare una rete di 20 digital innovation hub in Italia che non si sostituiscono al mercato perché voi siete voi a dover fare il lavoro prendere i progetti prendere i contratti e fare i delivery ma cercare di dare una prima risposta alta immediata di consulenza alta alle imprese soprattutto le medio piccole che tirati per la giacca oggi come sono da tutti quegli attori in modo scoordinato alla fine si sono paralizzati invece l'idea è venite in casa di Confindustria che è la vostra casa la casa di fiducia trovate lì un punto di primo impatto che in due tre ore di sessione congiunta vi possa far capire il vostro livello di digitalizzazione e poi quali sono le aree su cui mettere mano la logistica piuttosto che il CRM piuttosto che l'integrazione delle vostre tecnologie di rete e così via ecco far lavorare quell'ecosistema tutto quanto in modo coordinato in modo tale da dare una risposta molto più forte molto più armonica e poi ovviamente il mercato lavora questa è stata una scommessa condivisa a livello del sistema territoriale è stata condivisa dal governo perché il DJ Innovation Hub il governo Calenda li ha messi nel suo piano del cosiddetto 4.0 insieme ai competence center universitari che sono perlomeno al momento sette ecco e l'idea è proprio quella di dare una risposta forte al sistema delle imprese soprattutto le medie piccole nei vari territori guardate che i primi risultati stanno venendo mi diceva l'amico dell'UCIMU che l'ordine di macchine di macchine a controllo numerico avanzato è cresciuto del 22% nel primo trimestre certo grazie al libero ammortamento ma un imprenditore non scommette solo perché ha avuto un incentivo investe perché deve crederci e la cosa importante me lo dicevano nella nostra struttura è che anche la parte software sta cominciando a crescere perché uno dei prerequisiti che ho voluto fortemente è che l'incentivo toccasse non soltanto i nuovi modelli di macchine a controllo numerico di robot ma l'integrazione di queste macchine attraverso tecnologie e software e quindi di big data e tutte le cose che ben sappiamo per trasformare il dato in valore ecco devo dire che questo sta cominciando di nuovo a graffiare sul territorio e questo è veramente molto molto importante l'Italia è piena di macchine a controllo numerico è piena di robot peccato che non lavoravano in maniera coordinata quindi questo è un passaggio molto delicato mi avvio alla conclusione siamo a questo livello siamo arrivati a 20 sono diversi cantieri in varie fasi di evoluzione alcuni sono già operativi come vedete c'è Torino che è già operativa ieri ero a Torino tra l'altro stanno facendo un gran bel lavoro c'è Belluno c'è Pordenone c'è Venezia c'è Lumbria insomma si stanno cominciando finalmente a muovere alcune realtà altri sono cantieri in essere insomma nel giro di credo per fine di giugno dovremmo avere perlomeno le strutture da un punto di vista giuridico fissate che sono delle associazioni quindi sono dei punti entro cui operano pochi da 3 a 10 specialisti in maniera ripeto pre-competitiva in maniera non si fattura in questi di generation hub lo dico chiaro a voi così come lo dico a tutti gli altri operatori il mercato deve scaricare le proprie energie in base alle proprie competenze le proprie capacità però è importantissimo che ci sia uno stimolo ulteriore una generazione di domanda ulteriore da parte di questa struttura che è in casa nostra in casa di Confindustria e quindi dovrebbe avere il vantaggio di essere una casa di fiducia quindi direi su questo un pochino stiamo lavorando ecco sulla parte strategica della pubblica amministrazione guardate questa depositiva soltanto per dirvi questa è presa dal piano di Piacentini qui c'è un'enorme opportunità lo dico a chi di voi lavora nelle pubbliche amministrazioni locali e centrali perché Piacentini con la parte sua centrale si occupa della parte bassa che sono le piattaforme abilitanti non le leggete ma si parla là sotto di connettività si parla di speed si parla di anagrafe unica del cittadino quello che rimane aperto sono tutti i verticali la sanità il processo civile telematico il processo penale telematico la scuola insomma Catasto gli enti locali ecco lì c'è un'enorme possibilità di incidere di agganciare per aiutare queste strutture a muoversi quindi direi in questo momento ci abbiamo un'industria 4.0 quindi le imprese si sono messe in movimento abbiamo una PIA che piano piano si sta mettendo in movimento io credo che tocca un pochino a noi adesso che siamo la leadership sul versante dell'offerta cercare di prendere in mano questo momento e cambiare anche noi un po' il modo di lavorare a me fa piacere lo racconto sempre quando vai in giro e vedi che anche le persone più strane parlano di questi argomenti racconto sempre di quando a Napoli andai a fare un convegno di 4.0 e prima di entrare in Confindustria c'è un bar lì vicino che vende sfogliatelle stupende questo sapeva probabilmente che io stavo andando lì e gli dico come è buona questa sfogliatella complimenti ci vuoi dottor questa è una sfogliatella 4.0 e poi complimenti dice sì l'ha fatta quell'intelligente artificiale di mia sorella grazie grazie grazie